Tre errori che non deve assolutamente commettere la Juventus contro la Salernitana nel prossimo turno di campionato o in caso di vittoria la Juventus andrebbe a raggiungere matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League e questo è il motivo per cui il match contro la formazione campana diventa davvero fondamentale nel percorso dei bianconeri anche perché la qualificazione alla prossima Champions League è davvero l'obiettivo più importante che è stato prefissato l'estate scorsa in un momento difficile per il club nel momento in cui la costruzione della Rosa ha dovuto anche tener conto di alcuni paletti imposti dall'esigenza economico-finanziare dovuto al fatto che la Juventus non ha partecipato quest'anno alla Champions League e di conseguenza non ha potuto soffrire degli introiti così tanto importanti della Champions League è vero che in questo momento la Juventus in tasca ha già la certezza di essere protagonista nella prossima Europa ma non possiamo non prendere in considerazione il fatto che gli introiti che garantisce la Champions League sono ben diversi rispetto a quelli dell'Europa League per questo è il motivo principale la Juventus deve assolutamente centrare la qualificazione nella massima competizione europea e deve farlo prima possibile poteva farlo contro la Roma in caso di vittoria nell'ultimo turno e devo dire che rispetto alle ultime settimane abbiamo visto anche un approccio e un atteggiamento diverso da parte dei bianconeri di Allegri che sono rimasti in partita per tutti i 90 minuti hanno lottato, hanno rischiato ma hanno provato in tutti i modi a vincere la partita e ho compreso bene la rabbia di Allegri per quegli errori commessi negli ultimi due minuti della gara perché nel momento in cui non si riusciva a portare a casa l'intero bottino mantenere il vantaggio sugli scontri diretti con la Roma ma era fondamentale per i conti finali di questa classifica adesso in caso di vittoria contro la Salernitana la Juventus avrà diritto di accesso alla prossima Champions League e il primo errore che non deve commettere è sottovalutare l'avversaria perché è vero che la Salernitana è già retrocessa in Serie B ma la formazione di Colantonio vuole onorare questo finale di stagione questo finale di campionato non ha staccato la spina a differenza di come si potesse immaginare e nell'ultima prestazione contro l'Atalanta ha dimostrato di volersi proporre per quella che è anche nei suoi limiti ma in ogni caso con tantissimo orgoglio e quindi l'errore che non deve commettere assolutamente la Juventus è pensare che la partita contro la Salernitana possa essere una partita dall'esito scontato sarà una partita da giocare, da approcciare bene da gestire nel migliore dei modi e io credo il primo pericolo, il primo rischio che si nasconde dietro questa sfida è relativo al fatto che la classifica in questo momento possa magari far pensare a qualcosa di semplice non sarà assolutamente semplice contro la Salernitana e sottovalutare l'impegno sarebbe un gravissimo errore l'altro errore che non deve assolutamente commettere la Juventus e sarebbe grave è quello di pensare alla finale di Coppa Italia che sarà qualche giorno dopo contro l'Atalanta sicuramente un impegno importante quello della Juventus anche perché c'è ancora l'opportunità di mettere le mani su un trofeo come non è successo nelle ultime due stagioni e per questo motivo sicuramente la partita in programma all'Olimpico di Roma sarà una partita importante però in questo momento più che mai la Juventus deve pensare partita dopo partita sarebbe un gravissimo errore giocare contro la Salernitana pensando in funzione della finale di Coppa Italia magari pensando di poter gestire le energie soprattutto mentali pensando magari di prendere sotto gamba l'impegno con la Salernitana perché poi la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta inevitabilmente richiederà un impegno diverso sicuramente bisognerà alzare l'asticella di quella prestazione però questo è un errore che la Juventus non può permettersi di commettere anche perché siamo nell'ambito di quell'anno zero e questo non dobbiamo dimenticarcelo l'anno zero è servito e dovrà servire fino all'ultimo momento utile ad una crescita una crescita che è arrivata anche attraverso il momento negativo che ha vissuto la squadra da fine gennaio in poi compromettendo la posizione di classifica ecco in questo momento qua la Juventus deve pensare di partita in partita c'è da affrontare la Salernitana e c'è solo ed esclusivamente da approcciare ad un match che ripeto non sarà semplice se la Juventus sarà brava a non complicare il match perché questo è l'aspetto poi più importante se la Juventus saprà approcciare da Juve l'impegno con la Salernitana non ci saranno problemi i problemi potranno nascere solo ed esclusivamente se la Juventus penserà di poter mettere meno impegno rispetto a quello che serve sulla prossima gara di campionato e quindi bisogna giocare contro la Salernitana senza pensare all'impegno successivo contro l'Atalanta in finale di Coppa Italia per quanto anche quella sarà sicuramente una situazione impegnativa per i bianconeri che avranno appunto l'opportunità di rimettere le mani su un trofeo e questo è quello che un po' si augurano un po' tutti i tifosi di fede e bianconera la terza questione che secondo me può nascondere dei rischi pensando all'impegno contro la Salernitana è pensare all'idea del turnover e qui voglio fare un approfondimento ulteriore io credo possano esserci anche eventualmente delle rotazioni rispetto all'undici titolare che andrà a scegliere Massimiliano Allegri e magari rispetto ai cambi che andrà a proporre nel corso dei 90 minuti ma tutto ciò non deve essere concepito come un turnover da mettere le seconde linee in campo piuttosto che le prime in questo momento qua per come è cresciuta tutta la rosa della Juventus io credo non ci siano più né prime né seconde linee io credo ci sia una rosa ormai abbastanza omogenea perché siamo al termine della stagione in cui chi scenderà in campo saprà benissimo cosa dovrà fare e non c'è la logica del titolare o della riserva c'è semplicemente la logica di dare il meglio e il massimo nel contesto in cui ci si ritrova io credo questo sia un aspetto fondamentale che dobbiamo tenere presente in questo momento in avvicinamento ad una partita che ripeto sulla carta può sembrare semplice non lo è e lo ripeto per l'ennesima volta la Juventus deve approcciare bene questa partita e chiunque scenda in campo è la migliore scelta da parte dell'allenatore che nell'andare a studiare il piano gara avrà sicuramente individuato le forze necessarie per portare a termine il miglior risultato ecco questo è un aspetto che secondo me non bisogna sottovalutare ed è un aspetto che bisogna riconoscere nella partita che si andrà a giocare allo stadium contro la Salernitana è inutile parlare di turnover ma si parla a mio avviso ed è giusto parlare di formazione tipo per la Salernitana così come poi qualche giorno dopo parleremo di formazione migliore per affrontare l'Atalanta in Coppa Italia in questo momento qua non credo possano esserci più distinzioni tra chi merita di partire dal primo minuto rispetto a chi magari potrà subentrare a partita in corso rispetto a chi magari non prenderà parte al match ma all'interno di un gruppo a fine stagione si è tutti importanti allo stesso modo ditemi cosa ne pensate e ditemi un po' quali potrebbero essere le mostre a sorpresa di Massimiliano Allegri nella preparazione del match e con la Salernitana e anche se vogliamo in funzione della finale di Coppa Italia ditemi soprattutto se siete d'accordo con le mie letture rispetto a questo momento che si ritrova a vivere la formazione bianconera come sempre prima di salutarvi vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche grazie a tutti grazie a tutti